Mezzavilla, Benita, come siete provato nel ruolo in centrale davanti al di te? Ma nel senso di nessun problema, perché comunque nel passaggio l'ho fatto. Comunque sono due ruoli diversi, bisogna tenere un po' chi ne prende perché vuole venire un altro, però devi dare quelle posizioni e uno fa quello che magari ha bisogno in quel momento. Meno in questo ruolo o da mezz'ala? Ma per me non sono un po' in mezzo, non ho preferenze. Sempre stanno in parte delle salle? No, certo, da mezz'ala puoi fare magari delle inserimenti su questi cross, che magari arrivano a andare in corsia laterale con gli esterni, invece da centrale bisogna essere più brava a trattenere le partenze avversali. Ecco, mi scusi, nessun punto dell'adolizia che ha preso nel primo tempo che ha dovuto fare un risparmio da dentro alla disperanza. Cosa è successo? Dove è stato? Non lo so, secondo me c'è stato proprio un... C'è stato proprio una valutazione di misure, secondo me abbiamo perso un pallone che dovevamo gestire meglio quando si perdono quel pallone e magari quello aveva un grande passo e abbiamo avuto un po' di difficoltà. ma per fortuna non c'è sopra che c'è da fare un pallone, perché siamo in mezzo alla finale. Sì, però c'è stato proprio un pallone che è stato l'ultima opzione, perché comunque è una pericolosa. Tutto bene, poi però quando si trattava di tirare verso la porta si faceva sempre fatica. Ma non è di così faccia la partita, se avete visto la partita non lo so. E fa pratica per qualsiasi squadra non lo trovo, e 11 giocatori sotto la palla davanti al mare di rigore. Trovare spazio tra le linee secondo me fanno fatica tutte le squadre. Quindi infatti non fanno tirare ma sempre... È impossibile, si provano a tirare da lontano, perché secondo schiacciano 2-3 linee. E dove trovi uno spazio? È impossibile. Infatti l'è migliora, perché non è la Bucenico, con i piedi dal limite, 25 giocamenti, ma anche tu hai chiesto la tua prova. No, non è stato provato una volta, ma gli altri hanno provato, però è sempre una partita difficile. Ci sa per noi di trovare una squadra così. Poi magari dovevamo essere più gravi, con queste partite come succedono in questi modi, dovevamo essere gravi a sfruttare le pare attive. Ci avevamo provato, magari abbiamo sembrato, non so se c'era tra il giorno, però lì in queste partite che sono un po' così, bisogna essere anche solo da una tiglia. Grazie.